Amici e amiche di RBA bentornate, bentornati a Caffè Bleu e Bistrò Radiofonico Trivisivo, il programma che vuole nutrirvi e perlomeno cercare di darvi spunti, stimoli nutrienti per i vostri 5 sensi più uno, il senso della meraviglia. Siamo allo stand N come Napoli, N146 Padiglione 3 al Salone del Libro che apre oggi giovedì 9 di maggio, un piacere poter ritornare qui tra le strade, le storie del Salone del Libro, vita immaginaria, questo è il tema scelto quest'anno, un tema che parte dalle suggestioni di Natalia Ginzburg, immaginare una vita. Io mi sono permesso di ribaltare il titolo perché c'è molta immaginazione in questo lavoro, Natalia ci regala tanti spunti che partono sia dalle persone, dagli incontri ma anche da quegli elementi che possono nutrirci, dai libri, dalla poesia, dal cinema, dai film appunto, dei libri e dalla poesia insieme, libri e poesie insieme che possiamo ritrovare ad esempio i presidi di cultura e di poesia quale stanno ad essere appunto le biblioteche. E per accompagnarmi e per accompagnarci alla scoperta di questo lato delle biblioteche come oasi di cultura ho com'è, un piacere ritrovarlo, Gian Piero Casagrande. Grazie Claudio, grazie a Radio Beckwith che dà sempre spazio alle nostre iniziative, alle iniziative della Biblioteca Agli Audi di Pinerolo. Direttore della Biblioteca Agli Audi e delle Biblioteche Civiche al plurale di Pinerolo, sono diversi tra l'altro i presidi che riguardano la città di Pinerolo. In particolare, Gian Piero, ti ho proposto questo tema che parte dalla biblioteca come presidio culturale, come luogo di cultura, di incontro, immaginiamo davvero una piazza in cui i lettori e lettrici, studenti e studentesse studiano e si ritrovano intorno ai libri, intorno a quel profumo magico della lettura e tutto questo si può anche coniugare attraverso la poesia. Non è facile, intendiamoci, perché la poesia è un mezzo di espressione vecchio come il mondo e come l'umanità tutta, però non è in cima ai desideri nemmeno dei grandi lettori. Noi sappiamo che in Italia si legge poco, viva il Salone del Libro e voi che fate cultura e che ci aiutate a diffondere la lettura in generale. L'Italia sappiamo è un paese dove legge un libro l'anno il 41-42% dei cittadini, Piemonte va un po' meglio perché legge il 44% dei cittadini. Quindi siamo a livelli veramente bassi e in quest'ottica è chiaro che la fa da padrone e va benissimo, ovviamente la narrativa, la poesia è decisamente minoritaria. Però noi difendiamo questo panda che è la letteratura poetica e lo facciamo da tanti anni, perché noi abbiamo cominciato nel 2013 proprio con, intanto con la programmazione di Pinerolo, città della poesia. Anzi, per la precisione abbiamo cominciato nel 2009 con l'apertura della poeteca di Pinerolo a Nessera Biblioteca. Nel 2013 la programmazione di Pinerolo, città della poesia e l'inizio della collaborazione con il Salone del Libro come punto fisso del Salone Off. Quindi il Salone Off, il Salone che esce dall'ingotto e abbraccia vari luoghi della regione Piemonte, tra questi appunto anche Pinerolo con tanti incontri che sono in corso di svolgimento, e si sono svolti già appunto nel programma Off. Abbiamo cominciato con Carlo Cottarelli il 2 di maggio, finiremo il 16 con Viola Ardone, il 16 alle 16 in Biblioteca. Mi piace segnalare, se posso, un paio di appuntamenti perché sono imminenti. Oggi stesso alle 21 al Tempio Valdese, in occasione della giornata dell'Europa, perché oggi è la giornata dell'Europa, presenteremo l'Europa senza retorica, libro di Barbara Curli, in collaborazione naturalmente con l'Associazione Cultura Valdese Serafino, il Circo del Lettore di Pinerolo, Pensieri in Piazza, la Chiesa Valdese, la libreria Volare. Domani, e ci tengo particolarmente, venerdì 10 maggio alle 18 da noi in Biblioteca, ogni anno il Salone del Libro ci manda un lettore, un autore, che è qui al Salone, e domani ospitiamo John Kalman Stefansson, che è un autore islandese, è uno dei più importanti scrittori europei contemporanei, uno dei più eletti, e Stefansson ha una caratteristica particolare, è un poeta, nel senso che nasce come poeta, pubblica libri di poesia, poi dato che la poesia non dà da mangiare, e come dico ai miei figli, visto che io scrivo libri di poesia, quando è che ti decide a scrivere un romanzo di successo, non ci sono ancora riuscito, lui c'è riuscito, per cui lo ospitiamo domani alle 18 in Biblioteca da noi, e infine sabato 11 maggio alle 17.30 sempre in Biblioteca, nell'ambito del Festival della Comunicazione parleremo anche noi di intelligenza artificiale, con la presenzazione del libro di Stefano Borroni Barale, l'intelligenza inesistente, un approccio conviviale all'intelligenza artificiale. Quindi, lo spazio della Biblioteca, che sa essere luogo d'incontro, una piazza in cui discutere di idee, di suggestioni, che partono dai libri, partono anche dai libri di poesia, una domanda a Gian Piero Casagrande, direttore della Biblioteca Civica di Pinerolo, è questa. Si parla molto di poesia, i tuoi figli ti dicono che di poesia non si mangia, non ci si nutre, e in realtà ci nutriamo tutti di poesia, anche sui social, quante citazioni poetiche, più o meno coscienti o incoscienti, sappiamo da dove arrivano. È vero, ma quanta poesia si scrive in Italia, si scrive una quantità di poesia inimmaginabile o supposta tale, intendiamoci, poi la poesia con la P maiuscola è veramente poca, in Italia, per fortuna, come d'altra parte, c'è buona narrativa e pessima narrativa, c'è anche buona poesia e pseudopoesia, si scrive molta pseudopoesia e poca poesia. Io mi stupisco effettivamente che la poesia si legga poco, perché si scrive tantissimo, ma si legge pochissimo, quando i social ci insegnano una cosa, c'è la lunghezza di un post, il post è brevissimo, si legge in pochi secondi, ormai l'attenzione anche del lettore è abituata a quel format, lì, se scrivi dieci righe è un post, non te lo leggono, te le leggono le prime tre, non capisco perché la poesia non funzioni più di tanto quando ha proprio quella tipologia di lettura lì, perché per andare a dormire non leggiamo sempre una poesia. E qual è allora una delle possibili soluzioni? Il mezzo, il libro che può spaventare perché non lo sentiamo troppo vicino, magari non tutti e tutte possono sentire vicino, quindi è il modo di fruire, il mezzo che non è un film? Secondo me no, il mezzo va bene qualunque mezzo, va bene il mezzo elettronico, va bene il mezzo cartaceo, va bene la riproposizione orale di una poesia. Secondo me la difficoltà della poesia è dovuta a una colpa, come dire, voluta da parte di molti poeti, la difficoltà. Allora, la lettura deve trasmettere, deve trasmettere messaggi, deve trasmettere emozioni. Se io che sono un forte lettore di poesia, leggo un libro di poesie e non ci capisco granché, non sto parlando di autori dilettanti, sto parlando di autori di altissimo livello, se faccio fatica a capirlo io che ho dimestichezza alla lettura, come possiamo pensare di avvicinare i lettori alla poesia, al libro di poesia? Bisogna riuscire a trovare, non è facile naturalmente, il giusto mezzo tra la qualità della scrittura, tra la capacità, come dire, tecnica di scrivere una poesia, ma anche la sua trasmissibilità. Sai cosa mi hanno scritto dei lettori e delle lettrici? Io ho il piacere di leggere tante poesie in un programma che ormai da 11 anni ho il piacere di condurre su RBA, riguarda come si legge una poesia lì a capo, banalmente, può sembrare una banalità in effetti, però in realtà come posso capire l'accapo? Perché vanno a capo? C'era un poeta, mi sembra che, se non sbaglio era Guido Catalano, e che anche lui ha rivoluzionato, se vogliamo, ha comunque cercato una nuova strada nella poesia, questo è da riconoscere, perché i poeti vanno a capo, così, alla Carlona, ecco, la traluco semplice perché sono le 12.10. Ecco, scherziamoci un po', però, insomma, questo vuol dire che forse c'è bisogno anche di formare lettori e lettrici. Sì, devo dire di sì, intendiamoci, i ragazzi che vanno a scuola si approcciano alla poesia, e come? Si approcciano alla poesia classica, se vogliamo, il problema della scuola è la mancanza di tempo per cui ci si ferma, se va molto bene a montare, da montare in poi la poesia italiana, e fermiamoci solo alla poesia italiana ha fatto tantissima strada, anche nel senso di una, come posso dire, non banalizzazione degli argomenti trattati, ma una quotidianità maggiore degli argomenti trattati. Una volta non avresti mai trovato in una poesia, se non rarissimamente, termine forchetta, tanto per dire, oggi si può scrivere una poesia anche raccontando, come dire, descrivendo una cucina, il quotidiano. Quindi queste cose sono, questo è cambiato, è cambiato moltissimo. La capo è il ritmo, la capo è la voce della poesia, è la caratteristica della poesia. È chiaro che ogni poeta ha il proprio ritmo. Cioè una volta che siamo usciti dalla costrizione della metrica, della metrica classica, della metrica tradizionale, che ha il suo, come dire, ha il suo scopo anche oggi, intendiamoci, perché dà ritmo naturale. Se fuoriesci da quel ritmo lì, devi trovartene uno tuo e quindi devi andare a capo quando la tua sensibilità te lo dice. Se la poesia non ha ritmo, è prosa e va benissimo lo stesso. Un'altra suggestione che mi hai suggerito, Gian Piero, è la vicinanza tra la forma canzone e la forma poetica. Sono due mondi, per carità, differenti, però in realtà hanno alcuni punti in comune, come appunto quello di unire. Ci sono poeti, come Bob Dylan, che scrivono canzoni, hanno scritto canzoni. Quindi in realtà non immaginiamo che siano così distanti questi temi. Possono essere ispiranti. Sì, almeno. Dico qualcosa che va contro l'idea di molti. Se tu chiedi a un poeta, un poeta laureato, diciamo così, ma le canzoni sono poesia, inorridisce, come inorridirebbe a definire poesia gli scritti di poeti, come dei divulgatori, ecco. Tutto fa bene alla poesia. Anche perché torna un poeta. Assolutamente. Anzi, benvengano i divulgatori in ogni campo, anche nella poesia, perché avvicinano i lettori. Faccio un nome non italiano, Rupi Kaur, una poetessa americana, di origine indiana, ha una scrittura, tanto accompagnata spesso dal disegno, molto semplice. Forse è troppo per chiamarla poeta laureata, però vende decine di migliaia di copie del libro. Quindi fa bene alla poesia. Assolutamente fa bene. Fa bene la poesia. Poi quella semplicità, io non credo sia così, in realtà, facile. Tutto altro. È un lavoro arrivare all'essenziale. Per cui la vicinanza con la canzone è assolutamente immediata. Teniamo conto, contro quell'opinione appunto, che vuole tenere separati i due campi, la poesia che cos'è? Quando nasce la poesia? Nasce come parola che accompagna la musica. E quindi è già lì. Cioè la poesia è testo di canzone. Hai portato qui con noi, al nostro stand, Gian Piero, me lo appoggio, un secondo così lo mostro al nostro pubblico, una raccolta che abbiamo avuto piacere anche di presentare in altre occasioni. Primo Tempo, Gian Piero Casagrande, una raccolta che dalla fotografia, insomma, evoca un luogo, la poesia di un luogo. In questo caso il Monviso, il Re di Pietra, la montagna che disegniamo fin da piccoli. Quando ci chiedono da piccoli e da piccoli disegnano la montagna, facciamo la montagna perfetta. Non è quella della Paramount, la Pitchos, ma è il Monviso, insomma. Ed è un Monviso sul quale, insomma, ci sono state scritte diverse poesie. Per ultimo, Matteo Meloni, che tra l'altro è una delle persone che rendono attiva, è sempre nuovo il progetto di Pienerola Poesia. Questo raccolto a primo tempo sembra quasi, ha tanti significati, a meno a me, me li evocano diversi, insomma. Il primo tempo, il tempo della nascita, il tempo del ritrovarsi, il tempo, insomma, sono tante cose che, ovviamente, tanti spunti che vi invitiamo a leggere. Naturalmente è il primo tempo della vita, certo. Che ritroviamo in questa raccolta. Come hai legato i vari versi, che non abbiamo tempo di ritrovare, ma che presentiamo ben volentieri? Qual è il filo conduttore? Parte da questo Monviso, quindi dalla cosiddetta casa, da quella che può essere la casa? In ogni libro, soprattutto in un libro di poesia, c'è una geografia personale, naturalmente, e la mia geografia personale è quella di un torinese, di fatti qui c'è molta Torino, trapiantato ai piedi del Monviso. Io lavoro a Pinerolo, come si è detto, ma vivo a Saluzzo, quindi il Monviso è la mia, è il mio orizzonte quotidiano, per fortuna. Io apro le finestre di camera mia, da camera da letto, e vedo il Monviso. Per cui quella è casa, è il riferimento, è l'ombelico del mondo, ecco, per me, per chi abita, non solo le nostre zone, per chi abita a Mezz'Italia, perché il Monviso, sappiamo che è il Mont Svesulus, quindi il monte che si vede, è un simbolo, è un simbolo che ha tanti significati diversi. Questo è un libro, io preferisco sempre, questo è il mio quinto libro, cerco sempre di costruire i libri che scrivo, e che arrivo a pubblicare con una spina dorsale ben precisa, con un tema dominante, e inevitabilmente, avendo ormai i capelli bianchi, due figli grandi, questa è una riflessione sul tempo, il primo tempo è il tempo che è passato, adesso siamo già al secondo tempo avanzato, diciamo, come dico in una poesia, ed è chiaro, c'è una riflessione su quegli anni, anche con un po' di nostalgia, inevitabilmente. C'è anche l'intervallo, secondo me, che ha un valore importante, io ti metto a considerare. C'è anche il terzo tempo, magari anche un quarto. Il terzo tempo è quello che ci piace, perché è il tempo in cui ci si ritrova tutti, ad esempio. Gian Piero, i prossimi passi della Biblioteca Gli Audi di Pinerolo, che passano attraverso diversi incontri, che si tengono in questo salone meraviglioso, che si trova in Via Battisti a Pinerolo, vicino alla piazza centrale, insomma, quella che ricordiamo tutti, piazza Vittorio Veneto, tutti i passi li trovate anche sui social, Biblioli Audi su Facebook e Instagram, la poesia, Pinerolo Poesia, ci sta lavorando, insomma. Pinerolo Poesia ci stiamo lavorando, proprio con Matteo Meloni, che hai citato prima. Ormai da due o tre anni il clou sarà in autunno, nel mese di novembre, che è un mese anche un po' più libero da eventi, quindi speriamo di avere buono spazio e daremo naturalmente risalto agli incontri che organizzeremo. Uno spazio di incontri, uno spazio di scambio di idee o per cambiare idea, chi lo sa, questo è anche molto importante. La poesia ci aiuta in questo, la biblioteca come simbolo, in realtà sono biblioteche, sono enormi, sono tantissime, è stato al centro del discorso che abbiamo avuto piacere di condividere con Gian Piero Casagrande, al quale auguro tanto entusiasmo. Quello non manca. Non deve mancare mai, io ti auguro con tutto il cuore per agitatore culturale, il quale bisogna anche essere nel 2024. Grazie a Gian Piero. A presto.